Una fabbrica degli esperimenti, così Alleanza Nazionale definisce Viale dei Gasperi. Dopo le varie discussioni avutasi sul progetto e di colori usati per il lato est, il capogruppo Pasqualino Piunti ironizza sull'evidente diversità che renderà il viale di una bizzarra doppia facciata. Il centro-sinistra si è sempre divertito su questo viale, dice Piunti, ricordando la pista ciclabile e la mini corsia dei bus. Nella commissione ad hoc, aggiunge il capogruppo di A.N., avevamo avuto l'assicurazione che non si sarebbe creato un impatto cromatico incompatibile, ed invece... Abbiamo visto che, come avevamo sospettato, il marciapiede è di diverso colore e di diversa fattura, quindi San Benetto del Tronto sarà l'unica città che avrà un marciapiede di destra e un marciapiede di sinistra, non inteso come lato, ma inteso come forza politica. Evidentemente vogliono distinguersi, fanno bene, così i cittadini capiranno con chi hanno a che fare, solo che la pecora macchiata viale dei Gasperi sarà lo zimbello di tutti quanti e non è... Ma Piunti allarga il suo attacco anche in ambito provinciale e chiede tramite interrogazione al presidente Massimo Rossi una risposta sul futuro del Piceno Consind. Il Consorzio per l'industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino non attraversa infatti un momento felice. Dopo una riunione dei vertici di Confindustria, anche il sindaco Ascolano Celani aveva trattato l'argomento, definendosi contrario alle attuali funzioni del Consind. Sono otto anni che assistiamo ad uno stucchevole contraddittorio sulle funzioni del nucleo industriale, ha dichiarato Piunti, avendo letto anche innumerevoli volte dell'interesse della Guardia di Finanza su diversi atti del Consorzio stesso. Il capogruppo di A.N. in sostanza chiede quale sia la posizione della provincia in merito, dato che all'orizzonte si intravedono esiti non proprio positivi, ossia la chiusura dell'organo.